Ciao ragazzi, oggi siamo a Ispo, Monaco, vedremo le anteprime del 2024-25 d'inverno, siamo allo stand di Garmont con Paolo che adesso ci farà vedere le anteprime per il prossimo inverno. Ciao Paolo. Ciao, buongiorno. Benvenuti allo stand Garmont dove presentiamo le novità per la stagione Fall Winter 24-25. La principale sicuramente è il Tower 3.0 Extreme, uno scarpone pensato per l'alpinismo invernale e per le ascese in ghiacciaio anche durante la stagione estiva. Uno scarpone ricco di tecnologie dove abbiamo diverse collaborazioni con Ingredient Partner, tra cui Gore-Tex, dove utilizziamo le nuove membrane totalmente PFC-free, realizzate in EPE. Boa, per cui iniziamo la collaborazione con Boa, utilizzando un'allacciatura con un doppio rotore sull'Extreme per poter garantire un fit performante durante tutte le fasi della salita e della discesa. Vibram, nostro partner storico, con cui abbiamo realizzato la nuova suola Vertex con compound Durastep e tecnologia Traction Lag. La caratteristica principale di questo scarpone è un fitting molto performante, dato anche dalla costruzione a doppio strato con un boot interno con una costruzione overlap e una ghetta esterna protettiva che garantisce maggior comfort e costruzione overlap del fascione che va a coprire l'intersuola per garantire maggiore protezione al pacchetto suola ma anche una maggiore connessione tra la tomaia e il battistrada. Tower, che è una famiglia storica per il brand Garmont, è stato rinnovato anche nella versione tradizionale adatta a un alpinismo quattro stagioni per cui più versatile e utilizzabile anche per attività meno impegnative. Perfetto, questo per quanto riguarda l'alpinismo ma non solo perché abbiamo in anteprima quello che ha vinto anche l'ISPO Award di quest'anno. Esatto, abbiamo pensato alle attività tipiche dell'inverno per cui le ciaspole, le camminate sulla neve e volevamo realizzare un prodotto capace di garantire isolamento termico ma anche comfort di lunga durata per le lunghe escursioni sulla neve. Abbiamo realizzato un prodotto dal taglio alto con due rotori boa per garantire una regolazione micrometrica utilizzando anche i guanti per cui si può chiudere e regolare l'allacciatura senza togliersi i guanti anche a basse temperature. L'altra caratteristica principale è l'imbottitura realizzata con Ortolite Therm, uno strato di 2 mm di imbottitura che viene inserito tra la fodera e la tomaia e quindi garantisce isolamento termico anche a basse temperature. L'ultimo elemento importante di novità è il battistrada Michelin realizzato con il nuovo compound Bio-Based Technology, un compound con il 90% del materiale derivante da elementi naturali quindi non dall'industria petrolchimica. Il grande lavoro di ricerca e di sviluppo di questo prodotto ci ha consentito quindi di vincere un Ispa Award che per noi è il secondo di fila dopo la scorsa stagione estiva. Sì, me lo ricordo, ma ho fatto il video anche di quello. Ma non solo loro perché c'è anche... C'è anche una versione mid, più versatile, adatta all'escursionismo non solo invernale ma anche autunnale e primaverile perché qui non abbiamo imbottiture, quindi uno scarpone più versatile, appunto, meno protettivo dal punto di vista termico. Perfetto, allora a questo punto, vabbè, ricordiamo inverno 2024-2025, ma ti chiedo anche i prezzi a quali usciranno. Allora, il Trace Eye uscirà a 250 euro al pubblico, mentre il Tower Extreme 3.0 uscirà a 390 euro al pubblico. Perfetto, grazie mille Paolo e non vediamo l'ora di provarli. Grazie mille a voi.